Grazie a tutti. Io la metto volentieri perché siamo in un momento di caos, non ci sappiamo più niente, quindi quando lì siamo pure incerti a dare il voto, a chi lo dobbiamo dare? A questo, a quello? Poi adesso con le stancate che abbiamo? Sì, no. Ha un documento? Ha un documento? Ha un documento appresso? Io? Carte d'identità perché serve? Sì, sì. Allora, qui al tavolino di raccolta di firme in compagnia di Mina Welby, ricordiamolo, siamo davanti ai giardini di San Giovanni Bosco, di Don Bosco, piazza Don Bosco, giardini intitolati a Piero Welby. Mina, come sta andando questo primo tavolino? Ma fino adesso non si è mai riposato e sono venute tutte persone, non solo quelle chiamate per telefono, con l'SMS, ma sono fermate anche altre persone, non tante, ma interessate. La gente è molto disgustata del contesto politico che vede adesso, troppi partiti e partitini e cose varie. Comunque, io credo che se riusciamo a fare la nostra lista, a promuoverla veramente e fare campagna elettorale, e io spero che possiamo anche e riusciamo anche in qualche maniera a entrare in Camera o in Senato e nelle regioni, è una cosa importante. Io cerco veramente di fare di tutto. Mina, tu sei anche candidata, diciamo dove? Io sono candidata in Lombardia, Lombardia 1, 2 e 3, sono candidata anche per le regionali, nelle province di Brescia, Varese e Milano, poi in Lazio naturalmente, allora Roma, nella provincia di Latina e Viterbo. Ecco, e poi in altre regioni d'Italia, adesso non le ricordo a memoria. Senti, Mina, speriamo che in qualche modo questo tavolino potrà essere arricchito quanto prima di un simulo, di un riferimento a questa lista amministrativa, giustizia e libertà. Sì, io ho cercato prima di scaricare velocemente da casa il file per il logo, volevo mettere qui una bella sciarpina gialla con il logo, bello grande, e mettere magari anche uno qui sul muro, però non mi ha funzionato internet e non avevo il tempo perché ieri sera sono andata a letto abbastanza tardi, sono andata a casa tardi dal partito. Oggi sono andata a Minturno e Formia, dove ho portato le nostre liste, sono stata accolta molto bene dagli uffici elettorali, molto gentilmente, si sono messi subito in moto, ho conosciuto poi delle persone che mi aiutano a convogliare le persone a firmare nei comuni, ne sono veramente molto contenta. Allora, buon lavoro Mina e bocca al lupo a questa lista. Grazie, grazie veramente e andate ai nostri tavoli e vi prego, firmate, 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 fateci muovere, dateci la possibilità di correre per le elezioni, vi prego. Qui al tavolo, appunto, a fianco a Mina Welby ci sta un altro militante che vediamo spesso a Torre Argentina e in tutti gli altri tavolini che è Vittorio. Vittorio, i tempi di questa raccolta firme, si dice che siano abbastanza disperati, quali sono? Entro lunedì, oggi è martedì, quindi abbiamo sei giorni per raccogliere in tutta Italia le firme di questa lista. E andate ai nostri tavoli e vi prego, firmate, 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 fateci muovere, dateci la possibilità di correre per le elezioni, vi prego. Grazie.